Noi siamo tra i più storici partecipanti a questa premiazione e crediamo che la continuità sia fondamentale. Il significato del premio sta nel riconoscimento di quanto facciamo di buono per i nostri collaboratori e anche raccogliere le sollecitazioni, i suggerimenti per migliorare sempre di più. I nostri collaboratori sono mediamente molto partecipativi perché si rendono conto e sanno che per noi non è un momento di semplice riconoscimento di quello che abbiamo fatto, ma un elemento fondamentale per costruire le nostre politiche di soddisfazione ed engagement per le persone. I dati vengono attentamente controllati, analizzati e vengono identificate tutte le azioni o correttive o migliorativi utili ad essere un'azienda sempre più competitiva e sempre più rispondente alle esigenze e alle aspettative dei nostri collaboratori. Con il Great Space to Work Institute c'è una collaborazione che ormai è più che pluridecennale e per noi è un grande valore aggiunto avere un ente di così grande valore esterno che può analizzare obiettivamente i dati e contribuire a tutti quegli interventi che ci servono per essere sempre più competitivi.